ecco il treno in manovra si chiama la vettura 327.2 buona giornata a tutti poi fate contro noi che dico aperta e vai sei sicuro di fare questa cosa? aperta, prende partenza volete, prende partenza volete, prende partenza vai prende partenza signori volete, fate uno su uno volete, prende partenza la cambiate finale signori vuoi andare? via poi ci siamo, c'è partenza ragazzi ci sono tre treni che stanno a camminare prende partenza prende partenza, volete volete, prende partenza questi sono tutti i nostri strumenti uno due via volete, prende partenza ci siamo ragazzi, poi sto partendo volete, prende partenza via lo toothpicksic non lei trattore perché non non Grazie